Non poter mangiare un piatto di pasta o una semplice pizza può essere un'importante fonte di disagio soprattutto se si tratta di un bambino in età scolare. La celiachia è una vera e propria malattia che colpisce la mucosa dell'intestino tenue e si scatena quando una persona geneticamente predisposta ingerisce alimenti a base di grano, segale, orzo e avena. Fondamentale dunque una diagnosi tempestiva, specie se si tiene conto che in Campania ne sono affetti un soggetto ogni 100 persone. Questo è l'obiettivo del progetto Bye Bye Glutine, promosso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università Federico II di Napoli. Finanziato dal settore farmaceutico dell'Assessorato alla Sanità della Regione Campania e realizzato in collaborazione con la casa editrice L'Isola dei Ragazzi. Questa mattina si è svolta la manifestazione conclusiva del progetto che ha premiato un concorso di idee sul tema dedicato ai più piccoli. Sì, è una malattia molto importante perché noi dermatologi conosciamo le sue manifestazioni tardive nell'età adulto-anziana che sono numerose e gravi a volte, però anche nell'infanzia può avere una sua importanza ed essere misconosciuta. A volte è molto evidente la malattia perché da un disturbi del crescimento al tubo gastroenterico, quindi i pediatri la sanno facilmente riconosce, però in qualche caso rimane un pochino misconosciuta e quindi i primi segni sono proprio quelli dermatologici che è bene sottolineare. Più che altro, più che un'indagine epidemiologica, questo è un progetto di educazione sanitaria per far conoscere agli alunni delle scuole che cosa è veramente la celiachia, al di là di tutta la disinformazione che circola. Abbiamo visto facendo i confronti prima e dopo, cioè prima dell'intervento educativo e dopo l'intervento educativo, che le informazioni e le conoscenze prima dell'intervento erano piuttosto sommarie e generiche. Dopo l'intervento educativo sono diventate più precise e più puntuali e la percentuale di studenti che conoscevano sia che cos'è la celiachia e sia che cosa sono le intolleranze alimentari è aumentata notevolmente.